Italia Viva si defila dal governo con le dimissioni di due ministri, un sottosegretario e crisi di governo. Ne parliamo con la senatrice di Italia Viva, Silvia Bono. Onorevole lei ha fatto un passaggio dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva. Ha avuto occasione di parlare con Renzi? Certo, ma abbiamo sempre parlato con Renzi, in quanto le decisioni prese non sono decisioni solitarie di Renzi, come una certa parte di sciacallaggio mediatico vuole far credere. Le decisioni sono sempre state condivise fin dall'inizio e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a uscire dal Movimento 5 Stelle, dove la forma di democrazia era un po' rarefatta. Lei, che ha avuto occasione di parlare con il leader di Italia Viva, Renzi, ribadiamo le motivazioni che hanno spinto all'uscita delle ministre, di un viceministro sottosegretario che hanno portato a questa fuoriuscita, a questo defilarsi. È chiaro che le motivazioni non sono motivazioni dell'ultimo momento, sono motivazioni che derivano da una mancanza di istituzionalità della politica, nel senso che è chiaro un documento come il recovery plan doveva essere condiviso, addirittura scritto dal governo. Mentre c'è stato presentato in nottata un documento che poi nemmeno era stato quantomeno capito, se non letto, da alcuni esponenti del governo, tra cui lo stesso ministro Gualtieri. Il fatto che noi siamo intervenuti lavorando anche a Natale, portando delle modifiche, dei miglioramenti che in parte sono stati fatti rientrare nella nuova sintesi del recovery plan, significa che il documento non era perfetto ed è gravissimo da parte di un governo, nel momento in cui abbiamo delle risorse che non torneranno mai più, scrivere delle linee guida che poi già non vanno bene e quindi non possono essere base di progetti accettati dall'Europa. Questo non è l'unico motivo. Il motivo più grande è la non accettazione del MES sanitario. 37 miliardi rifiutati e ancora in ballo che ci avrebbero dato la possibilità, già se accettati a maggio, di gestire meglio l'emergenza sanitaria. Vediamo oggi qual è il grave problema col piano vaccini, vediamo qual è il problema delle strutture sanitarie. È chiaro che insistere su questo punto e poi inserire nel recovery plan solo 3 miliardi per la sanità, poi fatti aumentare a 19-20 miliardi di debito c'è da riflettere. Non c'era un modo diverso piuttosto che la crisi? Guardi, noi abbiamo parlato sia con gli esponenti del governo, sia con i partiti di maggioranza, Movimento 5 Stelle e PD. Abbiamo trovato le porte chiuse perché condividere fin dall'inizio un recovery plan che nessuno aveva letto, compresi gli esponenti del Movimento 5 Stelle e gli esponenti del PD e accettarlo a scatola chiusa. È una cosa che non può essere ammessa. Il governo vi ha chiesto altre volte di accettare alcuni provvedimenti, alcune cose come in questo caso ha scatola chiusa. Guardi, già aver votato la fiducia a Bonafede è stato un grande passo che abbiamo fatto e di cui al momento ci siamo pentiti perché non è stato ricambiato. Renzi al momento, io lo devo dire, viene indicato in tutti i social come uno degli uomini più, tra virgolette, odiati d'Italia. Secondo lei, perché? Forse non c'è stata una giusta comunicazione delle motivazioni o l'Italia è talmente presa dalla Conte, a fiducia così tanto in Conte da non capire anche quelle che possono essere le posizioni altrui? Guardi, c'è stata una comunicazione deviata, anche insistendo sul fatto della crisi pandemica, però essere in crisi sanitaria ed economica non significa non guardare al futuro, non avere una visione, è quello che dovrebbe fare la politica. Forse il modo di Renzi di intervenire sui contenuti dà un po' fastidio a chi fa una politica solo sui social, i cosiddetti odiatori che appaiono, che diffondono notizie false a partire dal cosiddetto falso quotidiano e li vediamo ogni giorno. Probabilmente lei ha col collega Scanzi che ha attaccato anche parecchio Renzi. Guardi, io penso che bisogna attaccare un modo di fare politica sui contenuti, non si possono attaccare le persone, ecco perché ci tengo a precisare che noi come Italia Viva non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti di Conte, ma abbiamo dei pregiudizi sulle modalità in cui verranno utilizzate le risorse del Recovery Fund per non parlare delle risorse che esistono in Italia, delle infrastrutture bloccate. Se pensa che già nel Recovery Plan noi abbiamo solo previsto, è stata prevista una velocizzazione della Salerno-Reggio Calabria senza prevedere altro, ma parlando di un'alta velocità fittizia, senza intervenire nel merito, pur avendo fatto io delle osservazioni ben precise, le lascio capire quello che è questo piano e quello che è l'interesse del Governo per il Sud e per il Paese, a parte gli slogan che vengono diramati da una comunicazione un po' fittizia. Cosa succederà a martedì? Si deve trovare una soluzione? Il Governo si trasformerà, troverà qualche responsabile, sono chiamati così, e andrà avanti? Oppure secondo lei si andrà alle elezioni? Mi fa sorridere la parola responsabile perché ricorderà benissimo quando io sono uscita dal Movimento 5 Stelle parlando di contenuti, ci tengo a ribadire, sono stata etichettata come cambia casacca, trasfuga, adesso si chiamano responsabili, quindi questo termine mi fa un po' sorridere. Martedì si vedrà, sicuramente non credo che ci sarà una maggioranza ad appoggiare questo Governo, perlomeno in Senato, ed è gravissimo che non si siano rispettate le vie di comunicazione istituzionale perché normalmente il Presidente del Consiglio, con la dimissione delle Ministre e del Sottosegretario, sarebbe dovuto andare da Mattarella per dimettersi e poi cercare di comporre una nuova maggioranza, mentre è andato per assumere ad Interim il Ministero dell'Agricoltura, provvedendo a cercare una nuova maggioranza nella veste di Presidente del Consiglio. Inviterei gli italiani e i calabresi a riflettere anche su questo. Renzi però ha ribadito che il suo obiettivo non è andare comunque alle elezioni, che fino al 2023 il Parlamento non si smuove. Pensiamo che in questo momento non si andrà alle elezioni, anche perché uno dei motivi per cui è nato questo Governo è anche arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica, che non fosse espressione sovranista. Anche perché la Lega risulterebbe ancora primo partito? Certo, e il centrodestra avrebbe buone possibilità di vittoria. Martedì dunque lei sarà al fianco di Italia Viva? Non sarà responsabile? No, non sarò responsabile, sarò al fianco di Italia Viva, anche perché abbiamo condiviso un progetto politico che riteniamo di portare avanti. È d'accordo con la gestione della pandemia da parte del Governo? Guardi, le ho detto già che ci sono varie difficoltà, quindi è chiaro, ci siamo trovati tutti impreparati di fronte alla pandemia, di cui non avevamo idea, però non esisteva un piano per le emergenze, non è stato fatto o è stato fatto un po' sulla base dei DPCM a settimana, confondendo anche gli italiani, quindi ribadisco la necessità del MES sanitario. Forse Italia, si dice che forse Italia potrebbe andare in soccorso di questo Governo o addirittura Mastella, se dovesse accadere una delle due cose un po' assurde, ma potrebbe anche succedere. Se succede vedremo, ma sicuramente se ci sarà una maggioranza di questo genere non è una maggioranza che può garantire un Governo di stabilità per l'interesse degli italiani.